Anzi, torniamo a Catania da Peppe Di Stefano che è con l'amministratore delegato del Catania, Sergio Gasparin. Ben ritrovati. Ben ritrovati, ben ritrovato a voi. Siamo con Sergio Gasparin. Direttore, allora, per la prima volta in questo centro sportivo quest'anno è sempre un piacere, nonostante questi sono giorni difficili perché sta per cominciare la stagione, per i motivi, wing jet, si parla tanto, si scrive tanto in questi giorni, ma nonostante questo la squadra è concentrata, partiamo da qui, ai prossimi impegni, Coppa Italia e poi ovviamente campionato perché la partenza è dura contro la Roma di Zeeman e sappiamo che c'è tanto entusiasmo a Roma. Sì, innanzitutto è un piacere nostro avervi qui ospiti in questo centro splendido, probabilmente dal punto di vista estetico e funzionale, il più bello d'Europa, come molti degli ospiti che ci sono stati in questi ultimi mesi hanno avuto modo di sottolineare. Siamo vicini ai giorni che oramai precedono il primo impegno ufficiale, che è quello di Coppa Italia contro il Sassuolo al Massimino. Arriviamo in questo momento con la struttura collaudata della passata stagione, a cui si sono aggiunti dei giocatori provenienti alcuni da categorie inferiori, come Frison dal Vicenza e Di Ugarà dalla Vibonese, altri da qualche altro continente, tipo Castro che proviene dall'Argentina e dal Racing, e altri come Salifu che era la Fiorentina e che è un ragazzo africano di grande qualità in prospettiva. Quindi diciamo un organico collaudato con qualche iniezione di gioventù che non fa mai male, sia la struttura e la prospettiva societaria, sia per la freschezza che sanno portare sempre all'interno di un gruppo. È chiaro che l'inizio poi del campionato in salita, perché andiamo a far visita alla Roma di Zema, che ha rigalvanizzato e ricaricato un ambiente, troveremo una situazione sicuramente ad alta tensione dal punto di vista della voglia della squadra capitolina di fare risultato sin da subito, però anche noi crediamo di poter far bene, di dare continuità al buon campionato che è stato fatto l'anno scorso e di poter contare su una squadra che nel momento nel quale si arriva a giocare per i punti si fa trovare sicuramente pronta. Si diceva prima da studio, nonostante l'entusiasmo dell'intera città, il settimo anno consecutivo in Serie A, il calcio Catania non vive in questa campana di vetro, perché le voci che riguardano la Winget, il Presidente è stato chiaro in questi giorni, le poche dichiarazioni che ha voluto rilasciare ha detto sono due argomenti distinti e separati. Lei è vicino al Presidente, ovviamente, il suo uomo di fiducia in questo momento al Catania, è un momento particolare e il Catania lo vive con la massima serenità da questo punto di vista? È un momento particolare solo perché il Presidente, che è la persona che ci sta più vicino, che è un tifoso sfegatato di quelli che sono i nostri colori, ma anche della vita sociale, dei ragazzi, del loro rapporto personale proprio col Presidente, vive sotto l'aspetto morale con difficoltà a questo tipo di momento ed è sicuramente capibile, soprattutto per il suo dispiacere nei confronti magari delle tante persone che non hanno potuto poi decollare con la sua compagnia. E quindi da parte nostra c'è partecipazione nei suoi confronti. Direi che poi però la cosa si ferma qui, nel senso che, come avete ricordato giustamente voi, le due realtà sono separate. Il Catania in questi anni ha saputo sempre vivere di luce propria, quindi in termini di autonomia e di dipendenza anche dal punto di vista gestionale, economico e finanziario. Quindi noi dobbiamo perseguire su questa strada contando e considerando che il nostro Presidente è amico Nino Pulvirenti perché così per tutti noi possa risolvere qualche problema personale che magari in questo momento lo preoccupa. Prima di lasciare le domande dello studio, ovviamente come questo non intacca il Catania, non intaccherà neanche questi ultimi giorni di mercato. Sono previsti dei colpi in entrata e in uscita, nel senso che spesso li definiamo top player. Il Catania ne ha qualcuno, come Gomez, come Lodi, come Barrientos. Sono situazioni particolari da risolvere o al momento anche da questo punto di vista il Catania ragiona con la massima serenità, sono giocatori del Catania e resteranno nel Catania? Noi tre mesi fa, quando sono arrivato a Catania, assieme al Presidente, abbiamo composto una strategia che era quella di dar seguito al gruppo e innestare nuovi elementi nei ruoli, nelle situazioni nelle quali si erano evidenziate le carenze. Abbiamo detto che questa era la nostra volontà e l'indicazione programmatica e che evidentemente però avremmo dovuto fare i conti nel momento nel quale arrivasse una proposta irrinunciabile. Ad oggi questa non è arrivata. Abbiamo anche detto che arriva entro domenica sera oppure da lunedì in poi i cosiddetti top player resteranno sicuramente con noi perché non ci sarebbe più il tempo e il modo di sostituirli in modo adeguato. Quindi egoisticamente speriamo che questa proposta non arrivi e quindi che possiamo dare continuità a quella che è stata la nostra strategia messa a punto e a tavolino. Ad oggi è così. contiamo e speriamo che possa essere così anche lunedì mattina e che quindi ci prepariamo al meglio con tutti gli addetti e con tutti i componenti che noi volevamo rimanessero con noi. Gasparin vi ascolta. Sergio, a proposito di mercato io non voglio levare il lavoro a Pepe Di Stefano che è il nostro esperto però abbiamo parlato di questi giocatori oggetto del mercato magari in uscita che voi chiaramente sperate di trattenere. In entrata vi serve un rinforzo forse qualcosa in difesa ancora dov'è da sistemare ancora il Catania? E vedi Pepe, più preparata di te sotto questo aspetto. Sì, noi abbiamo detto che l'unico settore nel quale riteniamo sia il caso di andare a corroborare l'organico con una nuova giunta e il settore difensivo sul quale siamo contatti anche dal punto di vista numerico e quindi pensiamo a un rinforzo all'interno proprio del pacchetto arretrato. Bariento, Semarchese, rinnoveranno? Ce l'auguriamo. Questo però deve avvenire all'interno di quelli che sono i nostri parametri economici di riferimento nel segno di rispetto del gruppo nel segno di dare continuità a un progetto gestionale che vogliamo difendere con grande fermezza quindi questi due giocatori sono stati lasciati a scadenza di contratto e quindi è evidente che non abbiamo una grandissima forza contrattuale però quello che è possibile fare cercheremo di farlo perché sono due ragazzi che vorremmo che rimanessero con noi però alle condizioni evidentemente che il Catania può fare non a quelle che non è in grado di affrontare. Ma ci sono state richieste davvero per Lodi e Gomez? Noi abbiamo parlato prima con Lodi insomma i nostri uomini di mercato e lì ce n'è uno molto bravo Peppe ci hanno parlato di interessamento da parte del Milan e della Fiorentina per questi due giocatori può confermare? Sì? Allora su Lodi non c'è stata nessun tipo d'offerta e quindi né da parte del Milan né da parte della Fiorentina per quanto riguarda Gomez c'è stata un'offerta che risale a oltre un mese fa ma sicuramente lontanissima da poter essere definita irrinunciabile e direi anche di gran lunga inferiore rispetto al valore stesso del ragazzo Dunque non andrà da Montella rimane a Catania rimane a Catania grazie a Sergio Gasparin buon lavoro buon lavoro Sergio grazie anche a Peppe Di Stefano e grazie a Peppe Di Stefano grazie a Peppe Di Stefano